Chiaramente è stato un anno abbastanza problematico, all'inizio dell'anno era partito molto bene con la vicenda del terzo polo, poi purtroppo anche nelle migliori famiglie non ci si capisce, è successo quello che è successo, e ora invece davanti a noi abbiamo questo elemento del congresso, ci serve per lanciare il grande obiettivo delle elezioni europee, nel 2024 perché si vota il proporzionale e ci auguriamo che tutta quell'area liberal-democratica e riformista che in Europa nel Parlamento europeo fa riferimento al Renew Europe di Macron, possono arrivare alla fine in attesa di arrivare alle votazioni e avere un'unica lista. La nostra scelta è chiara, noi siamo un partito europeista, la nostra direzione è quella di Renew Europe che fa riferimento al presidente francese Emmanuel Macron e quindi saranno momenti, mesi importanti da qui al futuro sia per il nostro partito ma anche per il futuro dell'Unione Europea. In più abbiamo con questa nuova organizzazione partiti per affrontare tutte le varie elezioni amministrative della nostra provincia che nel 2024 sono 26 e quindi ci vedranno impegnati sia nei comuni sotto i 15 mila abitanti dove cercheranno di fare partecipare insieme a liste civiche perché non avrebbe altro tipo di formula però che tengono conto di quelli che sono i nostri valori, di quelli che sono i nostri costi nazionali rapportate però alla dimensione dei vari territori dove voteremo. Mentre nei comuni sopra i 15 mila abitanti cercheremo di fare delle nostre liste di area, di area liberale, democratica e riformista cercando di fare emergere quella rappresentatività nei vari consigli comunali. Il nostro partito è un partito di centro che si riconosce in uno spazio liberale, democratico e riformista quindi noi stiamo cercando in tutto il territorio di aprire un dialogo per tutte quelle forze e movimenti che fanno riferimento a quest'area. Questo è stato un anno impegnativo come detto che si è chiuso anche con numerose polemiche tra le ultime quella relativa all'addizionale IRPEF che vi ha visto in consiglio regionale e contro la maggioranza. L'addizionale IRPEF va a incidere a partire da 1.400 euro netti al mese quindi considerate qualsiasi fascia di stipendio ma anche pubblico. L'infermiera che fino a due anni fa era considerato il personaggio importante dovuto al post-covid e ai medici con questo addizionale quello che può perdere i benefit gli viene completamente recuperato dall'addizionale IRPEF. Noi avevamo posto questo voto dicendo intanto non c'era bisogno di fare questa scelta perché i bilanci andranno a essere delle varie ASD valutati ad aprile. Secondo elemento volevamo alzare quello che era la parte diciamo dei 28.000 euro lordi ma arrivare a una scipa più alta per non andare a incidere su stipendi netti come facevo riferimento e il terzo elemento era che prima di fare le tasse proprio che siamo un'istituzione importante dovevano prima efficientare quello che era lo stato di salute della sanità toscana perché fino a tre anni fa prima covid c'era un certo tipo di assessore che si chiamava Stefania Saccardi e forse chissà in questi tre anni la sanità ha mancato anche di una gestione adeguata dal punto di vista dell'assessore della sanità. Ecco qual è l'augurio a tutti gli aretini? Allora auguro un felice 2024 e che siano fortunati e felici nel prossimo anno.